Sì, ora sto abito. Ecco, alla faccia santa del ciliegie, nel conto di stagione raccoglie questa mattina. Prego. Sì, prego per il ciliegie. Sì, prego per il ciliegie raccolte questa mattina per voi. Questa mattina? Questa mattina? Sì, sì. E' buon. Prego, se stanno appartendo. Questa è il succo, quello è il succo di mailing montato per la data. Per me. Grazie. 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 Grazie.